l'economia. La situazione è a Vicenza, però io credo che noi dobbiamo ribellarci alla logica del più di così non si può fare. Nessuno mette in dubbio l'impegno delle forze dell'ordine che anche a Vicenza è incognabile e a loro va il nostro incondizionato ringraziamento. Nessuno contesta lo sforzo anche dell'amministrazione comunale che attraverso la Polizia Municipale è in prima linea nel contrasto alla criminalità. Ho citato appunto un episodio in cui vittima è rimasto proprio un agente della Polizia Municipale impegnata in queste attività di prevenzione e controllo. Non posso che esprimere unitamente al sottosegretario il plauso per quell'operazione condotta dalla Polizia poche settimane fa a Campo Marzio che ha consentito di identificare e arrestare molti spacciatori che infestavano quell'area che è assolutamente centrale della nostra città. Ma quello che io voglio segnalare in questa occasione, che abbiamo anche l'occasione di segnalare nella precedente interrogazione al sottosegretario Durigo, che il problema di Vicenza non è solo di Vicenza e credo anche in tantissime altre città d'Italia, è la certezza della pena e la sua effettività. I responsabili dei reati sono noti a tutti, ma purtroppo girano liberamente. Troppo spesso liberamente spiace, però è un dato incontestabile a notare che la maggior parte dei responsabili di questi episodi di violenza sono stranieri, estracomunitari, spesso con alle spalle numerosi precedenti penali. Si tratta per lo più di disadattati che vivono del traffico di droga e di espedienti. Questi soggetti, oltre che condannati, vanno espulsi dal Paese. Ho notato positivamente che uno dei responsabili dei raid vandalici è stato effettivamente espulso, ma mi domando se il responsabile dell'aggressione del giornalista Gonzato, di cui abbiamo parlato nella precedente interrogazione con il sottosaglio di Origò e che era stato appunto destinatario di un provimento di espulsione, effettivamente è stato espulso. Mi chiedo se Cletus Salomon, il nigeriano di qui sopra, è stato espulso, se Rimi Mamid, che era già stato destinatario di un'espulsione, nel frattempo e che ha tentato di violentare una ragazza in pieno centro a Vicenza, sia stato espulso. Ecco, il problema delle espulsioni non lo ha risolto nessuno, è il problema dei problemi. Tra l'altro, anche quando c'era titolare del Viminale Salvini, il problema è rimasto sul tappeto. Però io credo che, di qui il mio sollecito nei confronti del Governo protempore, che vada affrontato questo tema. Non possiamo edudarlo, perché il problema non sono tanto l'identificazione, neppure le condanne e l'effettività, che poi questi provvedimenti vengano tradotti concretamente. E vadano affrontati con un rigore, forse anche con una energia, per usare un termine, come dire, urbano, molto più forti di quanto è stato fino ad oggi, perché è assolutamente intollerabile. Per quanto riguarda l'aggressione al minore in Galleria del Pozzo Rosso, io la reputo un episodio forse minore, ma non meno grave, perché noi sappiamo tutti che i nostri centri storici sono vissuti anche dalle persone debole, persone fragili, pensiamo agli anziani. Episodi di questo genere, che si verifichino nella nostra città, nel Salotto Buono, hanno degli effetti dirompenti sul piano dell'opinione pubblica. Uno dei dibattiti che in questo momento ho visto nella stampa locale è quello dell'abbandono del centro storico, perché diminuiscono gli abitanti. Se non si pone in maniera veramente energica, a freno, a episodi di questo tipo, è del tutto evidente che il centro storico si spopola e la città viene abbandonata. Grazie, Presidente.